Sono Gunne Bauhofer, sono la direttrice del centro tutela consumatori utenti. Oggi ho incontrato l'osservatorio della consigliera per i pari diritti. Abbiamo parlato di due grandi tematiche. Uno è il progetto Nessuno Escluso, dove con altre associazioni abbiamo provato ad indicare, a segnalare i problemi che le persone con disabilità hanno su tutto il territorio nazionale. L'altro campo è quello dei diritti dei passageri con mobilità ridotta, dove come CTCU ci impegniamo per migliorare la situazione nell'arco delle carte di qualità.